Chiedono solo di poter studiare. In Togo, quasi tutti gli studenti appartengono a famiglie molto povere. Lo Stato non fornisce ai ciechi gli strumenti specifici necessari per lo studio. Per loro, il sogno di frequentare il liceo e iscriversi all'università rischia di infrangersi contro un muro invalicabile. Il MAC, insieme a te, vuole sostenerli. Con il tuo aiuto possiamo fornire agli alunni non vedenti del Togo libri in braille, cubaritmi per la matematica, carte geografiche in rilievo. Grazie alla tua generosità consentiremo agli studenti di frequentare il liceo e l'università, sostenendo il pagamento del vitto, dell'alloggio e delle tasse scolastiche. Diamogli una mano. Chiedono solo di studiare. Visita il sito movimentoapostolicocechi.it oppure fai una donazione ai numeri di conto che vedi in sovrimpressione. Grazie a tutti.